Le condizioni ci saranno, anche coproduttori di qualche evento che abbia anche una sua desinenza di business, perché ripeto, questa cultura deve essere una cultura per favorire lo sviluppo della società. Io mi avvio in conclusione, ringraziando gli sponsor che preferisco leggere perché è importante il sostegno delle aziende che credono a Villa Erba e credono anche a questa visione nuova di Villa Erba dove, ripeto, la cultura deve far parte del suo panel di lavoro. Quindi, la Vazza, con il sostegno poi della regione Lombardia, il Comune di Gome, il Comune di Cernobbio, la Camera di Commercio, Tecnoit, la Chiesa San Paolo, ringrazio alla presenza degli esponenti di punta di queste aziende, la Polifron, Cili, la Filtrinelli, Oro, Tivuem, la Provincia, i Vazzi, l'Ordine e ciao punta. Mi sembra di averli nominati tutti.